Fondi, piano di rientro, concluso entro il 2017 e lotta agli sprechi. Questi i punti principali della conferenza stampa sulla sanità del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Per il terzo anno consecutivo la Regione concluderà l'anno con il segno più sul bilancio del comparto sanitario, un dato che consentirà a Palazzo Santa Lucia di poter contare su maggiori trasferimenti da parte del Governo centrale. La Regione Campania riceve per il 2016 10 miliardi e 200 milioni di euro. Cioè riceve la quota pro capite in termini assoluti del riparto nazionale più alta che abbia mai ricevuto nella sua storia. 10 miliardi e 2 che ci consentono di recuperare il taglio che abbiamo avuto lo scorso anno di 50 milioni di euro. Investimenti sono previsti per gli ospedali di Castellammare e Nola, ma De Luca torna anche sull'indagine della Corte dei Conti, che ha individuato uno spreco di 16 milioni di euro annui, risultato della nomina considerata illecita di 523 primari e oltre 1.900 dirigenti. I nostri cittadini, i nostri pazienti pagano due volte. Questo è il significato di questa ruberia che viene denunciata. Nel senso che queste sono risorse sottratte dai nostri cittadini che hanno bisogno di assistenza. Abbiamo la conferma che non sono state rispettate le regole in maniera clamorosa. Non si possono moltiplicare primariati a casaccio, ma non tanto a casaccio perché ogni primario duplicato risponde ad un cliente o a un padrino politico. Il secondo dato politico è questo, che in Campania non c'era nessuna struttura di controllo. Al termine della conferenza stampa, il presidente dell'Aggiunta regionale è tornato sulla sentenza che lo ha visto assolto in secondo grado per il reato di abuso d'ufficio a seguito della nomina del capo staff Alberto Di Lorenzo a project manager del termovalorizzatore di Salerno. Per i giudici il fatto non sussiste. Voglio solo ringraziare i magistrati ed esprimere il mio pieno rispetto e il mio apprezzamento per il lavoro che viene fatto. Ci sono a volte situazioni amare per chi ha responsabilità pubbliche, ma io rimango assolutamente convinto che dobbiamo difendere con i denti l'autonomia della magistratura. Se c'è un po' più di rispetto per la dignità delle persone e delle famiglie, credo che sia un bene per tutti quanti. E se anche il dibattito pubblico avviene con toni distesi, civili, credo che ne guadagni il livello di civiltà del nostro paese.